Per la prima volta le due soprintendenze che si occupano della tutela del mare, la soprintendenza regionale del mare della Sicilia e la soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo recentemente istituita nell'ambito del Ministero della Cultura hanno sottoscritto questo accordo per la scrittura di protocolli per la valorizzazione e per la tutela del patrimonio subacqueo e in particolare abbiamo pensato di iniziare con lo studio e la documentazione dei porti e degli approdi presenti su tutto il territorio nazionale La carattadina Axos nasce per un'esigenza sperimentata nella ventennale esperienza della soprintendenza del mare della regione siciliana con l'obiettivo di coprire e colmare quelle difficoltà a cui siamo andati incontro nel corso della tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio sommerso in particolare con la carta si sanciscono alcuni aspetti fondamentali quale la necessità di personale specializzato ma anche di ricerche e indagini preventive, di archeologia preventiva proprio per tutelare il nostro patrimonio e non trascurando quello che è l'aspetto delle coste, dell'erosione costiera e di molti siti ormai sommersi a causa di bradicismo Come parco di Axos da Ormina stiamo lavorando congiuntamente alla soprintendenza del mare per istituire dei nuovi itinerari subacquei per i turisti che avranno la possibilità e la voglia di vedere questo immenso patrimonio subacqueo